Ciao ragazzi bentornati su RobbyPlays, il canale di Robby dedicato ai giochi Oggi andremo a giocare a un browser game chiamato Quickdraw Questo sito ci dirà cosa disegnare e noi dovremo semplicemente disegnarlo E far indovinare alla sua intelligenza artificiale quello che abbiamo disegnato Quindi cominciamo Disegna un foglio di calcolo Un foglio di calcolo dovrebbe essere tipo un foglio a quadretti alla fine Quindi facciamo dei quadretti Abbiamo soltanto 20 secondi per fare ogni disegno e ce l'abbiamo fatta Disegna una cindura Prima ho detto disegna una cindura perché stavo così concentrato a quello che stavo facendo Che l'italiano è andato a farsi fottere Comunque per adesso proveremo a fare disegni cercando di farglieli indovinare Alla prossima run cioè al prossimo gioco, alla prossima giocata Non so come chiamarla Proveremo a farlo più veloce possibile Disegna una corona in meno di 20 secondi Questa è una corona perfetta in 16 secondi Ora ha un'arachide Un'arachide dovrebbe essere fatta in questo modo Poi ha Scusate per le mie skill di disegno che fanno abbastanza cagare Però questa è un'arachide Ehi è un'arachide No è un'arachide Non è una bistecca, neanche una bocca Neanche uno spazzolino da denti Abbiamo perso Fancu Disegna una busta in meno di 20 secondi Una busta è fatta in questo modo e ha le maniglie È una busta No, non è una valigia, è una busta Questa è una busta Ti prego, indovina la busta È una busta È una busta Perché faccio così schifo? Vi giuro che fino adesso ci ho giocato E ho fatto dei disegni Che l'intelligenza artificiale ha indovinato Tutti Disegna un riccio Un riccio è fatto così Ha una faccia tipo da topo Ha degli occhi molto piccoli E tante spine Ma tante Tante Uh Alla fine il sito ci fa un recap con tutti i disegni Come vedete il foglio da calcolo lo abbiamo indovinato La cintura anche Anche la corona E le ultime due no E la terz'ultima Un riccio L'abbiamo indovinata Ora proviamo a fare molto più veloce Disegna una barca a vela in meno di 20 secondi 3 2 1 Via Questa qua è la barca a vela Questa qua è la vela Uh In 17 secondi Soltanto 3 secondi per disegnare una barca a vela E ce l'abbiamo fatta Disegna dei broccoli I broccoli sono fatti in questo modo Molto difficile disegnare dei broccoli su Uh Temo di non avercela fatta Un telecomando Il telecomando è una cosa quadrata Ha un tasto qua per accedere la tv Un sacco di altri tasti Grazie sito che l'hai indovinato prima Ce la stiamo facendo Una racchetta da tennis E' fatta in questo modo più o meno Più o meno ho detto Non è una padella E' una racchetta da tennis Dai indovina Questa è la pallina La mia paura è che il sito Non riesco a indovinare quello che sto disegnando Perché lo sto facendo veramente molto veloce Un gelato Un gelato Con il cono Wow L'ultimo disegno Un segnale di stop E' un cerchio Ho scritto Stop Possiamo fare molto di meglio La racchetta da tennis mi ha fatto perdere molto tempo Quindi riproviamoci Gioca di nuovo Disegna una ruota Vai una ruota Così Non perderemo neanche tempo No questa qua è una ruota E' una ruota Non è una ciambella E' una ruota Allora facciamo finta che non abbiamo fatto niente Ricominciamo Allora Questa è la volta buona Dai disegna un giardino Come si disegna un giardino 3 2 1 Vai Giardino Veloce 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 Questa qua è l'erba E' l'erba E' l'erba E' un giardino Questa qua è un giardino E' un giardino Ci sono anche degli alberi Guarda questo qua è un albero Oh Un giardino Perfetto Andiamo avanti Andiamo avanti Una batteria Credo che intenda una batteria tipo Per suonare Rock tipo No Perfetto Una farfalla Una farfalla Vai Farfalla è super facile Grazie mille Una palla da basket E' fatta in questo modo Ha delle linee così E una così E' da basket Perfetto Un esagono Un esagono a sei lati 1 2 3 4 5 6 E' un esagono Un orologio Vai Questa è facilissima Un orologio L'abbiamo fatte tutte E non siamo morti La nostra rete neurale Ha indovinato Sei dei tuoi disegni Se ne azionane uno Per scoprire che cosa ha visto Prettanto vedere Che cosa ha visto Ti abbiamo chiesto di disegnare un giardino Hai disegnato questo E la rete neurale L'ha riconosciuto Beh si è un giardino La rete Ha inoltre pensato Che il tuo disegno Somigliassi a questi Come vedete Nelle linee sotto Cioè quelle un po' più sbiadite Si vede il nostro disegno E sopra Quello che Per la rete neurale Era molto più vicino Ad un giardino Guardate l'ultimo Terza corrispondenza Migliore dell'erba Perché all'inizio Non so se l'avete notato Ma ci ha chiesto Se era erba Poi ci ha chiesto Se era un cespuglio E poi alla fine Se era un giardino Come fa a riconoscere Un giardino Ha imparato Esaminando questi esempi Disegnati da altre persone Beh si alla fine Cioè questi qua sono tutti i disegni Che hanno fatto le altre persone Rispetto al giardino Ma non sono tutti E ora vi dimostrerò perché Se noi torniamo indietro E andiamo qui Disegni che hanno fatto nel mondo Ci rendiamo conto Che è pieno di disegni Da fare nel sito Ma se noi clicchiamo Su uno di questi disegni Per esempio Il diamante Possiamo vedere Tutti i disegni Riguardando il diamante Quindi come vedete È veramente pieno E se noi clicchiamo Tipo su questo diamante Ci dice Che questo diamante È il numero 172 È stato fatto negli Stati Uniti Il 4 marzo del 2017 Quindi guardate qui quanti sono Cioè noi andiamo giù Una pagina a caso E ce li disegna tutti quanti Se noi andiamo verso la fine Ovviamente uscirà Uno degli ultimi fatti Il diamante Disegno numero 126.866 Fatto negli Stati Uniti Il 29 marzo 2017 Dopo un po' Dopo il 2017 Credo che abbiano finito Di tenerne conto Perché sennò sarebbero Veramente infiniti Non basterebbe una pagina Proviamo a cercare Uno dei disegni Che abbiamo fatto noi Prima noi abbiamo disegnato Il giardino Che è quello Che ci ricordiamo meglio E possiamo fare Un'altra cosa Qui ci dice Che ci sono 139.572 Giardini Disegnati Da persone reali Su internet Però ci dice anche Che possiamo Tipo Dire che una cosa Non sembra Non sembra un giardino Per esempio Questa linea qua Mi sembra un giardino Quindi Questo qua è inappropriato E qui ti ringrazia E dice che comunque Grazie Va bene ragazzi Anche questo video è finito Iscrivetevi Lasciate qualche like Scrivete qualcosa Nei commenti E ci vediamo Nel prossimo video Su Robby Place Oppure nel canale principale Robby24 24 Ho scritto XXIV Quindi Cercatelo Comunque lo trovate In descrizione Ciao a tutti Ciao Ciao